Ciao a tutti, in questo video vedremo insieme un evento drammatico che sconvolgerà completamente la vita della famiglia di Fecheli. Prima di quantenare però se vi va lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale così non perderete le prossime anticipazioni. Ricominciamo! In una qualsiasi giornata la dottoressa Mujgan ottiene una nuova proposta di lavoro all'ospedale di Istanbul. Dentro di lei però sa che il ruolo che li ricopre all'ospedale di Adana le piace molto. In più la sua vita, a parte qualche evento particolare, è davvero buona. In più avrà Fikret vicino ma quando capirà che il ragazzo è incriminato nell'incidente domestico dove Umita ha rischiato la sua vita, qualcosa tra di loro vi inizierà a cambiare. Fikret ha tenuto nascosta la vicenda, per questo la donna perderà totalmente la sua fiducia, fermerà la loro relazione e partirà in direzione a Istanbul. Ma prima della partenza decide di mettere alla prova il ragazzo, osservando ogni suo movimento. La divisione dei due forse lo farà riflettere, ma in realtà non sarà così perché incontrerà nuovamente Umit e insieme metteranno in pratica la loro vendetta verso Demir. Musgan infine dovrà arrendersi perché Fikret non ci pensa minimamente a cambiare e alla fine accettarà la nuova proposta di lavoro. Fekeli, anche se all'inizio non è conventissimo, gli darà il suo pieno sostegno e si prenderà culo di suo figlio fino a quando lei non troverà una nuova abitazione. Musgan, una volta sistemata, tornerà a casa a riprendersi il suo bambino, ma qualcosa andrà storto. L'aereo sulla quale lei è diretta cadrà e lei perderà la vita. Poco prima di quell'evento, Fekeli e Fikret sono molto contenti del ritorno di Musgan perché il ragazzo gli vuole chiedere di sposarlo. Però la loro felicità viene placata dalla radio perché sentono che l'aereo su cui viaggiava Musgan è precipitato. Perciò dopo Unkar e il mazzo Fekeli perderà anche Musgan e rimarrà solo. Inoltre il bambino sarà orfano di entrambi i genitori. Tutti si sentono in colpa per la sua morte, soprattutto Fikret che non doveva tornare da Umit ma doveva restargli più vicino. Un'altra tragedia si è consumata. Voi cosa ne pensate? Se il video è stato di vostro gradimento lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere le prossime anticipazioni di Terra Amara. Ciao!